Il Consiglio regionale ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione e la valorizzazione della cultura e della tradizione piemontese, dove il teatro storicamente ha avuto un ruolo di primaria importanza sia dal punto di vista artistico che architettonico. Un primo strumento di conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico e linguistico del teatro piemontese è certamente costituito dal centro Gianni Oberto, diretto dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e istituito con legge nel 1980, proprio allo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale, raccogliendo e conservando il materiale esistente e incoraggiando nuovi studi e ricerche anche inerenti alla cultura e alla tradizione teatrale. Il centro inoltre bandisce ogni anno il premio Gianni Oberto, destinato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso l'Università della nostra regione su argomenti inerenti alla cultura popolare e al teatro. Come Assemblea legislativa abbiamo da sempre supportato la produzione e realizzazione di spettacoli teatrali di autori classici e moderni della nostra regione ed è mia intenzione incrementare il sostegno a queste attività. Da quando sono Presidente ho infatti cercato di porre l'attenzione alla cultura e all'identità della nostra regione. Oltre alla realizzazione del tradizionale concerto di Natale con musiche e canti in lingua piemontese, occorre ricordare lo spazio sul sito istituzionale del Consiglio regionale in streaming dedicato ad associazioni musicali presenti sul nostro territorio. Nel salutarvi l'augurio di un felice 2021, più fortunato per un settore duramente colpito come quello del teatro, nella speranza di lasciarvi definitivamente alle spalle questa terribile pandemia. Attraverso i bandi la regione sostiene i progetti e le attività in modo capillare sul territorio. Un particolare riferimento lo abbiamo voluto rivolgere al teatro in lingua piemontese che rappresenta un segmento importante all'interno della nostra cultura. Torino e il Piemonte con i teatri storici hanno ospitato i grandi interpreti dell'Ottocento e Novecento, anche grazie alle province dove la tradizione letteraria e linguistica hanno maggiormente resistito con le loro compagnie amatoriali e con gli attori anche non professionisti. Il teatro piemontese non può e non deve essere considerato minore. Quest'anno il teatro stabile ha celebrato Vittorio Bersezio e Cesare Pavese e questo assessorato ha dato mandato a tutte le realtà culturali di valorizzare le tradizioni e l'identità piemontesi dalla lingua al teatro attraverso autori ed interpreti. L'emergenza provocata dalla pandemia purtroppo è stata drammatica per il comparto della cultura che ha pagato sia in termini economici che professionali un conto che certamente non avrebbero meritato e come regione abbiamo cercato di mantenere vive alcune attività sostenendone la programmazione anche con soluzioni tecnologiche come il web. Abbiamo cercato di dare un sostegno economico agli operatori della cultura pur nella consapevolezza che un pieno ritorno alla normalità sarà possibile soltanto quando avremo superato l'emergenza sanitaria e anche il prossimo anno non mancheranno iniziative analoghe per valorizzare le opere in lingua piemontese e in lingua italiana scritte da autori del nostro territorio. In questa occasione voglio ringraziare l'amico il regista Giulio Graglia che da oltre 30 anni replica questa importante iniziativa dal titolo dove vanno il teatro e la cultura piemontesi che mantiene viva l'importanza delle nostre radici nel panorama culturale regionale. dove va il teatro e la cultura piemontesi un'indagine in collaborazione tra lingua doc e la presidenza del consiglio regionale del piemonte quest'anno ci interroghiamo andiamo sui social sul web in streaming con le nuove tecnologie intervistando i protagonisti giornalisti attori registi manager dello spettacolo per interrogarci a 360 gradi tra il sistema museale quello cinematografico quello teatrale insomma in generale le arti la cultura sul territorio. Prima di iniziare questa serie di testimonianze di interviste vi lascio con una breve clip cosa racconta è un piccolo viaggio nella cultura o meglio nel teatro in lingua piemontese con i suoi grandi interpreti. a Grazie a tutti. 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 Tra le positività del lockdown c'è sicuramente questo felice esilio in casa, che per un lettore di professione, da un modo dalla vita alla vita alla letteratura, per me sono tempi felici. Quali sono le strategie, quali sono le strategie, secondo te, con un ritorno alla normalità, ma anche con ormai un passato che non può tornare esattamente come era e quindi bisogna, diciamo, coniugare in qualche modo le nuove tecnologie con il live e con il ritorno anche al contatto alle iniziative culturali live. Come lo vedi questo 2021? 2021 in prospettive? dove un setaccio, dove un setaccio, dove un setaccio, un positivo setaccio, un positivo setaccio ci ha liberato delle cose inutili, delle cose vacue, delle cose volgari. Io credo che in tutti i campi culturali il ritorno alla parola sia da augurare. Sono premio per quanto riguarda il teatro, figuriamoci, per quanto riguarda la letteratura, stiamo leggendo di libri che dovrebbero uscire dedicati al tempo del lowdown. Io non ne avverto una stretta necessità, insomma. E comunque, se usciranno, speriamo che siano libri di parola, nel senso autentico. Insomma, libri del lowdown, poi perché scriverne quando abbiamo Robinson Crusoe? E per quanto riguarda poi il teatro e il cinema, insomma, vedremo. Il 2021 ci restituisce una serie di emozioni e stimoli. Tu adesso hai scritto recentemente un libro su Bobetti, ma il prossimo anno sono i 110 anni della morte di Emilio Salgari, sono i 500 anni dell'Alione quando scrive le farse, che ha un grande riscontro nella letteratura piemontese. A Lione è un po' il ruzzante di Casa Nostra, eccetera. Questo senso della letteratura e della cultura piemontese sul territorio, come che valenza può avere ai giorni nostri? Dovremmo risalire ad una antica questione, insomma, la porrei così. Il dissenso molto amichevole che c'era tra Norberto Bobbio e Luigi Firpo, laddove Norberto Bobbio diceva che ormai non si poteva parlare propriamente di una cultura piemontese, cioè di un mondo con dei caratteri ben definiti, a differenza di Luigi Firpo che invece parlava di un agente piemontese che continua a essere, Firpo muore nell'89, quindi magari forse avrebbe anche rivisto questo giudizio. No, io credo che sia questo starcene in casa, in senso stretto e in senso lato, in lato cioè starcene nella nostra regione dove siamo stati confinati, possa essere l'occasione per varie iniziative. Per esempio, ce n'è una che mi è molto cara, che mi piacerebbe partire un giorno o l'altro, che è quella di un inventario del Piemonte, ossia l'idea del Piemonte, l'idea della piemontesità in tutti i campi del sapere, tra la letteratura, al teatro, al cinema, e come il Piemonte ha ispirato la cultura propriamente piemontese, cioè degli autori piemontesi, e come il Piemonte ha ispirato la cultura altra. Faccio un esempio molto semplice, che può essere apparentemente marginale, ma in fondo non va. Nella Recherche, Proust cita Torino una sola volta, e la cita perché il narratore con la madre di ritorno da Venezia verso Parigi fa sosta a Torino. Ecco, se noi facciamo una riflessione a proposito di anniversari, di cui tu parlavi nel 2022, saranno 100 anni dalla morte di Proust, faccio un esempio fra gli altri, e noi mettiamo a confronto Proust e il Piemonte, per esempio, sempre in una linea di Piemonte spiemontizzato, di Piemonte che non è ancorato negli orizzonti angusti, pensate, pensiamo a che cosa vuol dire recuperare la figura di una persona come Giacomo De Benedetti, il maggiore critico del Novecento, che a Torino, che da Biella a Torino, è lo scopritore, è il primo lettore, si imporà il primo lettore, il più autorevole lettore, il più chiaro lettore di Proust nel nostro Novecento. Questo è un esempio fra i tanti, questo è un esempio sul piano della letteratura, ma possiamo farne sul piano dell'arte, sul piano dell'arte intesa come pittura, sul piano del teatro, sul piano del cinema, insomma. L'ultima cosa, prima di salutarci, se dovessi chiudere con una battuta e pensando a questa battuta, al tuo maestro, uno dei tuoi maestri, sicuramente il tuo maestro del cuore, a Giovanni Arpino, cosa penserebbe oggi? Secondo me il maestro Giovanni Arpino, oggi come ieri, esigerebbe dal piemontese essere piemontese. Essere piemontese vuol dire avere una sensibilità speciale verso lo stile, verso il sublime, verso quello che vale realmente, cestinando tutto quello che è superfluo. Lui, poco prima di morire, non a caso, raduna in un sacco della monnezza fogli, carte, appunti e li getta. E questa sua visione delle cose è, secondo me, molto bene evidenziata in ciò che lui disse una volta passando in Piazza San Carlo e guardando il cavallo a Broso. Alto su quel cavallo, il cavaliere che è in noi, il meglio di noi. Grazie, grazie Bruno Quarante. Grazie a te. Albina, buongiorno, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, ciao a tutti. Ascolta, con questo nuovo sistema, ormai abbiamo cambiato tutti un po' le abitudini, ci siamo modernizzati, diciamo così, e anche quest'anno facciamo il punto, in un anno particolare sicuramente, per capire dove può andare la nostra cultura legata al territorio, la nostra cultura piemontese e in seconda battuta anche il teatro. Allora, intanto, grazie per avermi messo in partita. Sono ormai tanti anni che c'è questo appuntamento, questo puntel, che serve a fare dei ragionamenti, ma soprattutto credo che sia importante perché sappiamo che c'è gente che lavora, gente che ci tiene e che siamo vivi e che anzi cerchiamo le varie strade. Come hai detto tu, questa pandemia, questa carogna virus, per Dylan Piemonteis o un italiano un po' aperto, ha imposto a tutti dei ragionamenti nuovi. e se posso dire, vedendo in internet, Whatsapp, eccetera, mi pare che il piemontese non solo sia stato indietro, ma addirittura si è aperto anche alle persone che magari di piemontese, di teatro, proprio mai se ne occupavano. Se posso fare una citazione che in qualche modo riguarda il centro studi, ma la voglio fare perché è importante, è importante come segno di certi cambiamenti che questo stato di Bujanen, Staka e Travaia ci dà. ero stata contattata dal Museo Egizio, che ringrazio tantissimo, perché hanno voluto raccontare i personaggi che hanno fatto il Museo Egizio e l'hanno voluto fare in piemontese attraverso delle clip, otto clip da Schiaparelli, Drovetti, ma anche personaggi meno noti, come gli Ottolenghi, Molli, eccetera. e questa registrazione, questi clip in piemontese stanno veramente facendo il giro del mondo, non solo perché abbiamo tutti gli amici, soprattutto argentini o i piemontesi nel mondo, ma perché è un esperimento. Cioè di fatto, praticamente, nel mondo puoi parlare italiano, puoi parlare piemontese, ciò che conta, purtroppo sappiamo benissimo che c'è una lingua unica per certe esperienze, che è l'inglese. Allora, io credo che se non ci fosse stato questo periodo così complicato, il bisogno che tutti hanno di recuperare il rapporto con il territorio, anche attraverso la lingua, che poi è lo strumento più importante, forse non ci sarebbe stato. Altra cosa, poi ti lascio alla seconda domanda, per esempio, la grande quantità di messaggi che sono arrivati, per esempio in Whatsapp, in piemontese, ma non solo il piemontese da ridere, ma veramente anche in modo serio, che è un po' quello che vogliamo noi, cioè non che io sia bacchettona e che non voglio che si rida, però non voglio che il piemontese, e questo siamo tutti d'accordo al Centro Studi, ma credo anche con te, con la nostra storia, sia usato solo per ridere. Tu, Marie, ma sappiamo che può essere usato in tutti i contesti. Per esempio, ti ho parlato del Museo Egizio, perché lì ci ha permesso di voltare in piemontese la storia di Schiapparelli, eccetera, su dei testi bellissimi che hanno scritto al Museo Egizio, e l'abbiamo fatto con un piemontese della Coinné, un piemontese bello, classico, quello che è della nostra grande tradizione letteraria. Il Museo Egizio, infatti, è un'esperienza straordinaria e va, diciamo, nella linea, tu da sempre ti batti su questi temi, io, nella mia piccola parte, cerco di dare una mano, soprattutto sugli aspetti ovviamente teatrali, della comunicazione, e su questo tema anche con il teatro stabile ci stiamo, diciamo, muovendo. Ecco, sul territorio e sul piemontese, ma anche sul divertimento, sul divertissement alto, ci sono alcuni, diciamo, appuntamenti. Quest'anno abbiamo insieme fatto il Vittorio Bersezio, il 3 febbraio, il teatro Cobetti, ricordando... Quando ancora si poteva. Quando ancora si poteva, ricordando questo straordinario scrittore, ma fondatore della stampa, e naturalmente la sua grande opera, sulle miserie mi si travette, che ovviamente speriamo di rimettere in scena appunto con il teatro stabile, il prossimo anno ci saranno i 500 anni delle farse della Lione, che è un altro momento in particolare, e 110 anni che sove la morte di Emilio Salgari, o Salgari per meglio dire, e nel 22 arriveremo con il centenario della nascita di Beppe Fenoglio, insomma, tutta una serie di autori del territorio, importanti, ma nella rivalutazione del dialetto, certamente il ruzzante astigiano, Giovanni Alione, mi riferisco a lui, può essere diciamo una delle tappe importanti. Ecco, come il teatro può incidere sul territorio, poi tu tra l'altro sei anche presidente di questa giuria importante, di questo premio sulla compagnia teatrali a Moncaglieri, quindi c'è un'attività sul territorio, non tanto a Torino, ma sul territorio Piemonte molto fervida di compagnie magari amatoriali, che però si battono sul ripristino ovviamente, o sul ricordo, o sul mantenimento in molti casi, perché ricordiamoci che il dialetto, o meglio la lingua piemontese, è parlata costantemente in maniera ancora normale nella vita quotidiana, soprattutto nella provincia. Guarda, io mi sono sempre battuta per le compagnie amatoriali, so bene che a volte lasciano un po' a desiderare, eccetera, però la funzione di queste compagnie amatoriali nel tenere accesa la fiammella del teatro piemontese è fondamentale. Se non ci fossero stati loro negli anni in cui veramente a livello istituzionale non si faceva quasi nulla per il teatro piemontese, oggi saremo molto, molto più poveri. E soprattutto l'esperienza di Moncaglieri, che è decennale, ventennale, in questo momento non riesco a ricordare esattamente se sono 30, 25, 30 anni, Laura Pompeo poi lo saprà, lo ricorderà meglio di me, abbiamo veramente visto queste compagnie crescere, cioè bisogna anche dar loro degli stimoli, un'attenzione, perché giustamente se no loro dicono ma io il pubblico ce l'ho, il pubblico viene e vuole ridere. È vero, anche Massimo D'Azeglio diceva mia teatro va per divertime. C'è un modo che può far divertire magari con un po' di stile senza cadere, veramente in macchiettismo che ha poco a vedere con la nostra grande tradizione di storia del teatro. L'altra funzione di queste compagnie è una funzione, che posso dire, sociale, terapeutica. Voi pensate, in certi posti dove non c'è quasi nulla, l'idea, penso a Signo, il grande Oscar Barile, cioè questa funzione delle persone che si trovano, che si impegnano, che provano, tutto senza neanche una lira di compenso per queste persone. Ma è proprio questo il valore delle compagnie teatrali amatoriali, di creare un ambiente, di creare dei legami, di fare stare le persone insieme. E, se vogliamo, per noi oggi hanno comunque coltivato un vivaio. Secondo me, se ci fosse una volontà di fare qualcosa di alto per il teatro piemontese, contattare tutte queste compagnie, prendere il meglio da ognuno di loro, perché ci sono anche dei giovani che mancano un po' nel teatro. Questa è la difficoltà, lo sappiamo. Però loro li coltivano, loro hanno delle proposte e hanno anche degli attori molto bravi. Poi, naturalmente, quando tu fai tutto sul volontariato, si fa anche un po' come si può. Poi, con questo valore sociale di creare, di tenere viva, accesa una comunità di persone, è ovvio che qualche volta devi prendere anche qualcuno che non è il massimo, ma perché fa parte del rapporto di una comunità, di un gruppo. Quindi, secondo me, bisognerebbe, prima o poi, fare un lavoro vero su queste compagnie in modo che si sentano non abbandonate a loro stesse, come è stato. Ecco, potrebbe essere una delle sfide anche, diciamo, collegate al centro studi, ma come la vedi nel 2021? Quali sono, diciamo, le prospettive e le sfide che il centro studi con questa, diciamo, rivoluzione, perché ormai un po' indietro non si torna e quindi, chiaramente, può essere anche uno stimolo, no? Per abbinare la tecnologia con l'attualità, con il live, perché porteremo, ovviamente, a fare conferenze, incontri, eventi, eccetera, però ci porteremo anche indietro questa esperienza lunga di questo anno della pandemia. Quali sono le nuove sfide del centro studi proiettate nel prossimo futuro? Ovviamente ti riferisci al centro studi piemontesi, suppongo. Ecco, sì. Grazie. Al centro studi piemontesi, certo. Allora, guarda, come tu hai detto, dalle tecnologie non torneremo indietro. Intanto il concerto di Natale e la Via, che sono più di vent'anni che si faceva un appuntamento di poesia, musica, quest'anno, sarà un video, ovviamente, non potrà che essere così, perché è sempre in collaborazione, credo, stiamo lavorando in questo momento con il Consiglio regionale del Piemonte, perché non volevamo fare mancare questo appuntamento. Ci sono, negli appuntamenti virtuali, c'è il fatto che possiamo entrare in contatto davvero in modo universale con tutti i piemontesi nel mondo. È altrettanto vero che la presenza, l'affettività che si crea facendo teatro, conferenze con il pubblico è tutta un'altra cosa. C'è un'emozione, c'è un'affettività che è insostituibile. Io mi ricordo che Gualtiero Rizzi diceva il teatro è insieme, cioè è pubblico e attori. Se tu perdi questa cosa non è più teatro, è qualcos'altro. Ora, evidentemente, come centro studi, appena sarà possibile, torneremo in sicurezza, le conferenze in sede. Noi abbiamo già da alcuni anni abbinato la presenza in sede, cioè pubblico e oratore, oppure pubblico e concerto, pubblico e conferenza, pubblico e pezzi teatrali, sempre con la possibilità poi di vederselo, di seguirlo anche in video. Proprio perché il centro studi piemontesi è a Torino ma come sede, ma al suo riferimento è il Piemonte, gli antichi stati sabaudi, tutti i piemontesi nel mondo, quindi abbiamo sempre, già da anni, trasmesso le nostre attività in video con la possibilità di vederle in streaming differito. Quindi penso che stiamo lavorando per potenziare questi aspetti. In particolare per i piemontesi, vedremo un attimo come riusciremo a fare adesso per la via quando c'è la voce piemontese cercheremmo di proiettare anche l'italiano come dei sottotitoli o degli accompagnamenti. L'ideale sarebbe poterlo fare italiano-inglese per esempio. Per adesso accontentiamoci alle poesie importanti che sono quelle che ci guidano da sempre nella via come il Natale di Renzo Gandolfo e di solito le persone avevano il libretto in mano il programma di sala con i testi dall'anno scorso c'era anche non solo il testo in piemontese c'era anche la traduzione in italiano quest'anno la traduzione in italiano vedremo di farla scorrere sul video e poi sarà quel che sarà la cosa importante se posso così fare una riflessione personale noi tutti come Centro Studi Piemontesi Cado Studi Piemontese tolto il momento un po' così di disorientamento che non ci siamo messi anima e corpo per per non perderci di coraggio per fortuna erano percorsi che già avevamo avviato e ci siamo messi e li abbiamo potenziati diciamo che per fortuna gli studi libri il lavoro che è anche molto diciamo rapporto personale tra te il computer tra te la pagina questi hanno continuato la loro il loro percorso abbiamo dovuto rinunciare a convegni a mostre e questi dobbiamo guardare con fiducia e io credo che nella storia è stato dimostrato prima o poi le cose passano certo lasceremo lasceremo dietro cose tristi persone che non ci saranno più però vale la vita con queste parole ci salutiamo io ti ringrazio moltissimo del tuo contributo come tutti come tutti gli anni speriamo che il teatro la cultura la lingua piemontese possa da questa tragica diciamo esperienza momento avere propulsione nuove idee come stanno creando si stanno creando e già li stai attuando per il prossimo futuro per il 2021 e che appunto le nuove sfide ci portino a divulgare nel modo migliore la nostra tradizione la nostra cultura da dove arriviamo sostanzialmente grazie ancora Albina grazie a te c'era a tutti Valerio Binasco buongiorno ciao Valerio buongiorno ciao facciamo un punto su questo teatro su questo teatro e il territorio ma ha ancora senso oggi di parlare di teatro del territorio di teatro in lingua piemontese di teatro diciamo dialettale e degli autori eventualmente invece anche in lingua italiana del territorio ha ancora un senso oggi o no secondo te se la domanda è relativa solo al senso io ti posso dire che il teatro è uno strano luogo in cui tutto ha senso sempre per cui sicuramente se c'è un luogo che dà ospitalità e cittadinanza a tutte le esperienze della vita umana è proprio il teatro quindi sicuramente ha un senso se la tua domanda nasconde qualche cosa in più cioè se mi dice se in questo momento il teatro in lingua piemontese dà dei segni di vita che sono percepibili per un teatro nazionale quindi per un teatro che non è soltanto un teatro del territorio ma nel territorio ma che poi si fa palcoscenico di un'intera nazione allora i segnali sono poco percepibili fino a qui fino in questo momento peraltro tutte le volte che ci si domanda dove va il teatro sia esso di aritale o di danza o che ne so il teatro è monello mente crediamo sempre di sapere dove sta andando qualche volta addirittura crediamo di mandarlo da qualche parte ma è monello va dove vuole lui ci sorprende sempre ci sono stati ci sono state decadi che ci hanno fatto credere che il teatro sarebbe stato per sempre una certa cosa e poi nel giro di pochissimi giorni quella cosa è svanita nel nulla parlo di esperienze drammaturgiche registiche eccetera è una creatura sbarazzina e monella e non non mi sorprenderò se nei prossimi anni invece ci sarà un fiorire straordinario di teatro in lingua piemontese o comunque regionale in Italia stranamente il Piemonte che è una regione culturalmente così importante che ha dato vita a scrittori e intellettuali importanti veramente molto importanti per la nostra nazione per la nostra cultura stranamente ha fatto fatica nel corso dei secoli ad affermare la propria lingua come una delle lingue dialettali nazionali perché con conto il dialetto locale allora c'è il teatro marchigiano c'è il teatro molisano sardo c'è di tutti i tipi ma ogni tanto capita che uno di questi dialetti venga baciato da una strana fortuna dovuta alla presenza di un autore o di alcuni registi o di una costellazione di casi fortuiti che lo fanno diventare una delle lingue nazionali quando parliamo di piemontese poi entriamo in un dibattito che credo che sia serio cioè quale è piemontese perché c'è una bella differenza tra il piemontese che ho sentito parlare io da ragazzino e che parlo occhio male ma lo parlo occhio è il torinese grazie a te io ho potuto approfondire non poco la mia conoscenza di Bersezio e soprattutto delle sue messe in scena storiche e devo dire che ho faticato parecchio quando il torinese era parlato stretto ma lì sono casi fortuiti cioè non c'è maggiore dignità o minore dignità di una lingua è che a un certo momento questa lingua sale su un tappeto volante sia essa sia essa la televisione il cinema un attore in particolare una commedia in particolare e diventa un territorio abitabile anche da anche da altri pur con difficoltà il piemonte fino adesso non c'è questa battaglia non è riuscita a vincerla e su questa su questo tema con te è sempre molto bello parlare perché sei molto variegato e quindi è sempre entusiasmante sentirti il prossimo anno sono i 500 anni delle farse del Lione il ruzzante astigiano sostanzialmente c'è tutto sul lessico sul linguaggio sulla deformazione del linguaggio sul dialetto che diventa italiano potremmo partire da lì forse arrivare a Dario Fo facendo volo diciamo abbastanza pericoloso però potremmo unificare l'italiano arcaico il dialetto arcaico con le formule diciamo provate poi negli anni 60-70 dal Dario Fo ecco la riproposta di questi classici te l'ho detto anche in un senso un po' provocatorio perché chiaramente ci piace anche un po' stimolarci ecco questi classici sono riproponibili sono riproponibili come? ricreando il loro linguaggio rimettendo invece in maniera proprio filologica il linguaggio di 500 anni fa come come pensi che siano oggi esportabili proponibili? guarda se lo chiedi a me sai già la risposta perché per indole io sono uno che non non coltiva un amore particolare per le operazioni filologiche penso che la filologia va bene per i professori per gli studiosi già la parola filologia mi sembra no? faticosa da da accettare come percorso di conoscenza che poi si incarna in un'esperienza viva ecco no? mi ricorda un po' il lavoro dei coroner a volte la filologia la dissezione di un corpo morto io credo sì quello che tu hai detto è molto è molto stimolante molto utile è chiaro la ricerca che ha fatto Dario Fo sull'italiano arcaico sui dialetti però non è per niente filologica è un gioco straordinario è un minestrone creativo che sconfina senza assumersi il peso della volgarità mai nella parodia è la parodia di un linguaggio quello che adotta Dario Fo questo non gli toglie vita naturalmente né attualità e siamo ancora in attesa di vedere rivalutato il lavoro di Dario Fo ma è chiaro che la partenza è quella tu hai fatto un esempio hai messo in relazione Aglione e Ruzzante quale sia la ragione vera per cui Ruzzante è rimasto un classico sempre come dire a rischio di contemporaneo nella letteratura drammaturgica italiana perché Aglione invece abbia bisogno di una forte operazione di riscoperta io questo non te lo so dire posso dirti però come premio di consolazione che anche per Ruzzante le cose vanno benissimo se io presento un progetto che prevede Ruzzante ovviamente mi prendono sul serio ma so già nei loro occhi che stanno cercando una via di fuga di vari produttori possibili cioè mi rispettano perché è un autore di fronte a cui occorre avere rispetto ma vedo che stanno pensando in che modo me lo scarico questo perché dobbiamo anche fare i conti con un'importanza nuova che è venuta ad assumere il pubblico negli ultimi decenni fino a un po' di tempo fa sembrava che il mondo della cultura potesse in qualche modo testardamente procedere secondo dei valori che escludevano qualche volta al pubblico adesso noi abbiamo un grande bisogno di ritrovarlo il pubblico abbiamo bisogno dei biglietti abbiamo bisogno di un sacco di cose che dipendono dal pubblico e il pubblico non è più quello che aveva delle curiosità linguistiche o era attratto da un'operazione strana il pubblico è stimolato fortissimamente da tutti gli audiovisivi possibili immaginabili ed è sempre grito rispetto allo sforzo che qualche volta comporta il rito del teatro per cui anche Ruzzante è nell'elenco dei dieci principali esemplari in via d'estinzione se non stiamo attenti Aglione è uno dei progetti del teatro stabile il teatro stabile c'è questa ricorrenza importante che nel 22 ci vedrà sicuramente partecipi in maniera attiva tant'è vero che io ne venni venni a sentire qualcosa di Aglione della sua opera che confesso non conoscevo e poi ho scoperto invece che questo teatro così giocoso così gioioso di cui lui era autore era già nel mirino del teatro stabile da un po' di tempo avendo noi per esempio nella nostra squadra di artisti creativi una persona come Allegri che da molto tempo frequenta il teatro di quell'epoca vuoi sul versante commedia dell'arte vuoi sul versante della scrittura ecco quella è un'occasione che secondo me è bene non perdere per rivalutare un autore poi ti ripeto il teatro è monello per cui sulla carta io l'operazione Aglione posso vederla come pesante quasi come il cognome stesso dell'autore e in realtà poi invece potrebbe fiorire qualcosa di inaspettato non lo possiamo sapere però come teatro pubblico con una missione culturale importante non possiamo esimerci da prenderci delle responsabilità nei confronti dei nostri grandi autori in questo caso mi sembra un'operazione più che meritoria c'è poi un filo rouge che parte da Gualtiero Rizzi passa per Massimo Scaglione e arriva diciamo i giorni nostri c'è proprio un filo rouge di riscoperta che lega poi tra l'altro molto soprattutto attraverso la figura di Gualtiero Rizzi anche il rapporto con il teatro stabile perché fu lui che negli anni 60 in qualche modo ripercorse per primo questi autori piemontesi e ti volevo far riflettere invece in Manerba abbiamo parlato del valore delle filodrammatiche che è un nome forse un po' antipatico del teatro amatoriale chiamiamolo come desideriamo cioè di quel lavoro sociale che il teatro fa soprattutto nelle province che mantiene spesso viva ovviamente la lingua piemontese o il dialetto piemontese notoriamente sempre un po' facilone con diciamo spettacoli comici fortemente diciamo comici che però racconta anche un tessuto sociale importante un desiderio del territorio di fare cultura e anche lì un bisogno forse di crescita aiutata magari con una formazione per non soltanto fare un repertorio più leggero diciamo ma anche avvicinarsi magari dei dotori anche magari del territorio come Pietracqua e tanti altri che invece hanno fatto dei testi anche di un certo impegno tra l'altro sociale con tematiche peraltro ancora in qualche modo contemporanei ai giorni nostri cosa pensi una riflessione su questo tema del teatro amatoriale non fai che sfondare una porta aperta rispetto a una passione che io ho io vengo dal teatro filodrammatico mi piace molto la filodrammatica mi piace lo spirito filodrammatico ho frequentato quindi da ragazzino le filodrammatiche penso che sia una scuola di teatro notevole anche se è pieno di vizi orribili naturalmente che poi uno deve togliersi quando vuole passare alla professione però c'è una vitalità un amore sincero e c'è lo spirito spesso di quello che tu hai detto in inizio di conversazione cioè c'è lo spirito c'è il daimon locale quando io mi trovai ragazzetto di campagna piemontese ma di quel piemonte che forse voi nemmeno considerate troppo piemonte quella mandrogna nella quale io ho abitato da ragazzino mi ritrovai catapultato a Genova per fare l'università e fare la scuola quindi una città di cui percepivo un'energia ma non riuscivo bene a entrare io frequentavo le filodrammatiche pur studiando recitazione al teatro stabile andavo spesso a un teatrino che guarda te si chiamava Carignano e andavo a vedere queste filodrammatiche per percepire qualcosa ora non sapevo nemmeno io che cosa l'effetto è straordinario io credo molto nelle filodrammatiche credo che ci voglia che debba essere mantenuta come dire una vita parallela tra il teatro professionale il teatro delle filodrammatiche non possiamo pensare di inglobarci a vicenda anche se molto spesso le rappresentazioni professionali sconfinano nella filodrammatica ma questo è un altro paio di maniche credo che ci dobbiamo ascoltare vedere e conoscere molto io grazie a te ancora una volta durante quella convention su Persezio ho conosciuto alcuni degli attori dialettali chiamiamoli torinesi che sono facce anime straordinarie che poi quel teatro debba continuare a vivere sotto l'insegna di una certa gaia superficialità di una certa gaudente autocompiacimento della piccola borghesia locale eccetera e che faccia riferimento comunque ancora e sempre ai valori familiari ottocenteschi che è quindi un po' in disuso diciamo oggigiorno vabbè questo è un fatto che non può che ammantare di di quel fantasma buono che è il folklore qualche volta che fa bene al teatro è buono io spesso come ci siamo già detti ai miei attori chiedo di andare a riscoprire un po' delle loro origini dialettali di sporcare l'italiano di andare a ritrovarsi un po' a ritrovare un po' un'anima dialettale filodrammatica la missione che può compiere il teatro stabile nei confronti delle filodrammatiche credo che debba rimanere di di ascolto cioè percepirle non possiamo convivere convivere mi sembra una pretesa un po' smisurata fuori senso della misura ma è l'attenzione al teatro popolare direi com'è? l'attenzione al teatro popolare sostanzialmente ma il teatro è popolare il teatro se perde l'aggettivo popolare insomma fatica il teatro deve essere sono d'accordo con te deve essere popolare è e deve essere in questo momento alle tue spalle hai lo scorcio di un teatro che può essere carignano ma può essere tutti i teatri del mondo va riempito va riempito di gente che non va né messa a disagio né considerata inferiore insomma è un'esperienza io sto facendo un melodramma adesso sto lavorando a un'opera di Verdi il quale non è più popolare se io lo faccio sentire i miei figli forse addirittura mia moglie immagino che otterrò da loro la testimonianza di uno sforzo culturale ma finché è stato vivo quel teatro era popolare non ha niente a che fare con l'opera lirica contemporanea che è elitario no assolutamente no era il vero teatro popolare una riflessione che per chiudere per concludere la nostra breve chiacchierata ma così intensa la tecnologia è diventata in questi ultimi mesi preponderante adesso tutti propongono in qualche modo delle esperienze alcune più felici alcune meno di teatro in streaming teatro sul web e via discorrendo è un tema che io conosco bene con la RAI con Palcoscenico 25 anni fa facevamo gli esperimenti di ricreare il teatro per la televisione quindi in primi piani in uno studio non con la quarta parete eccetera eccetera oggi vedo alcuni tentativi che sono rimasti un pochettino diciamo fermi nel tempo altri che tentano ovviamente di creare nuovi addirittura linguaggi o nuovi processi teatrali attraverso appunto i nuovi strumenti quindi un legame creativo con il legame tecnologico e questi sono ovviamente quelli che mi interessano di più e immagino anche a te ecco come la vedi la prospettiva anche queste iniziative che Piemonte del Vivo sta facendo in questi giorni e tanti altri diciamo enti ecco come te lo immagini tu il teatro tra qualche mese quando si tornerà diciamo a una normalità che non sarà probabilmente più quella di un tempo ma sarà una nuova normalità con i spettacoli live eccetera eccetera come vedi questa integrazione tra tecnologia e teatro eh anche lì ancora una volta mi chiedi di prevedere quali mosse farà quello spiritello maleducato è imprevedibile che è il teatro è imprevedibile eh di sicuro io ti posso dire la mia e cioè io sono assolutamente favorevole a qualsiasi forma di contaminazione eh di tutte le tutti i media possibili non contrariamente a molti miei colleghi che si si sono un po' nervositi no dall'invasione del web insomma e che continuano a reclamare l'unicità del luogo teatrale come luogo preposto al teatro eccetera siamo perfettamente d'accordo sull'unicità del teatro ma questo non impedisce al teatro di avere molte anime fra cui anche una che può essere venduta facilmente al diavolo può preservare la sua innocenza formale perché comunque non può secondo me non possiamo chiedere al teatro di smettere di essere un'esperienza ingenua e innocente le persone si adunano in una stanza si fa buio qualcuno va canta una canzone agisce un'azione questo è incantevole ma è incantevole secondo le leggi di un'innocenza di cuore e questo è il luogo del teatro e va bene ma che da qua si possa anche cercare una sana importante contaminazione con altri mezzi questo non solo è doveroso ma è necessario è sacrosanto io come sarà il teatro dopo la chiusura dopo il covid sono la persona più sbagliata a cui chiederlo perché adoro rispondere non lo so è un po' il mio slogan non lo so vedremo vediamo e agiamo di conseguenza ma tutte le forme sono tutti stimoli creativi molto importanti per risponderti in maniera un pochino più tecnica e concreta posso dirti che il ritardo che abbiamo visto che il teatro aveva nei confronti dei mezzi di comunicazione diversi dal palcoscenico dipende semplicemente dal fattore tempo il quale a sua volta dipende dal fattore denaro cioè se io ho il denaro sufficiente a malapena ci arrivo così un po' strangolato per debuttare dopo 25 35 giorni di prova e aprire semplicemente il sipario non avrò il tempo per aver nel frattempo anche progettato un modo per filmare il mio lavoro per documentarlo per contaminarlo con altri altri linguaggi ma non avrò avuto nemmeno il tempo per decodificarli questi altri linguaggi mi sarò limitato a mettere tre macchine da presa che faranno una bruttissima ripresa di un piano sequenza di un'ora e mezza e buonanotte grazie e quindi ci siamo trovati ad avere molto materiale filmato ma che quando lo trasmettevamo la gente diceva ma io mi annoio ad questa roba ok quindi come si può fare la risposta è il mio solito non lo so ma qualunque cosa si voglia fare ci vuole tempo cioè io quando avrò uno spettacolo nelle mani e penserò che deve essere destinato non solo agli spettatori in carne ed ossa ma anche ha un modo per presentarlo su uno schermo io avrò bisogno di tempo per fare prove per fare dei montaggi per mettere sul palcoscenico delle macchine da presa per fare varie riprese e a quel punto avrò un prodotto consono e potrò dire questo va bene per il video non dimentichiamoci che il teatro in video ha avuto fino ad oggi pochissimi grandi eroi che l'hanno reso celebre uno di questi è eduardo eduardo però si prendeva tutto il tempo che ci voleva per trasformare una sua commedia pur ancora negli anni 60 in qualcosa che è commestibile ancora oggi dal punto di vista televisivo scoperto questo i budget dovranno prevedere sempre anche il fatto che il teatro se non vuole infognarsi dietro a un palcoscenico deve aprirsi alle nuove tecnologie bellissimo sentirti e naturalmente avrei tantissime cose su cui confrontarmi ma non è questa certo la sede e non abbiamo certo il tempo per farlo senti in chiusura mi hai parlato adesso della tua prossima proprio imminente regia ma volevo chiederti la tua progettualità per il prossimo anno qual è il progetto col teatro stabile di Torino o il tuo personale progetto a cui stai lavorando o che ti appassiona maggiormente o le linee diciamo culturali che ti affascinano di più per il 2021 ma guarda il prossimo lavoro per me comincia domani io oggi debutto con Otello e domani comincio le prove di una commedia inglese che si chiama The Spank di Kureishi la regia la fa Filippo Dini e io farò l'attore commedia contemporanea inglese drammaturgia contemporanea molto fascinosa di questo grande autore a seguire abbiamo dovuto inventare un progetto che sostituisse quello che per me invece era il progetto cardine della stagione come tu sai all'interno del teatro stabile io mi occupo principalmente di classici visto che ogni regista dovrebbe avere una sua anima io mi sono dedicato ai classici rivisitando in chiave contemporanea e volevo fare una delle ultime serie del carnivale di Goldoni a proposito di dialetto certo non è quello piemontese ma comunque è sempre un grande dialetto e lui è un dialetto di quelli baciati dalla fortuna direi non è diventato un dialetto nazionale grazie a Goldoni e grazie al fatto soprattutto che innumerevoli generazioni di registi nei secoli hanno comunque per ogni generazione di registi c'è stato un grande Goldoni e quindi ne ha rinnovato come dire l'attualità continuamente non possiamo farlo abbiamo deciso di non farlo perché le regole del covid non ci permettono di fare uno spettacolo al cui il cui cuore è una festa i contatti le vicinazioni insomma rinviamola quando saremo liberi dalla pandemia e allora abbiamo pensato a un teatro più di parola dove il contatto è meno urgente e farò il mio primo incontro ravvicinato del primo tipo con Pirandello e faremo il piacere dell'onestà insomma mi fa molto piacere dirigendo poi il mio festival pirandelliano quindi è un autore che amo moltissimo e quindi io sono ancora nella fase del odi e tamo sono ancora in quella fase lì per cui io e Pirandello ci stiamo ancora guardando un po' con diffidenza ma piano piano mi divide comunque più che unire certamente un autore che divide però un autore che penso sia di una grandissima modernità grandi temi che sviluppa sicuramente lo sono anzi in questo mondo dei social ancora ancora di più sulla identità e presunte tali sulle nostre mille anime e su quello che noi siamo presumiamo di essere senti Valerio io ti ringrazio moltissimo di questa chiacchierata sia stato come sempre gentilissimo e molto stimolante ovviamente penso per tutti noi grazie di cuore e in bocca al lupo per i tuoi prossimi spettacoli crepi il lupo grazie ciao buon lavoro ciao a tutti buongiorno Evelina come stai molto bene grazie sono qua dal museo egizio stiamo si vede dietro di me eccoci qua siamo collegati da lontano ma vicini con la testa bravissima anche quest'anno parliamo di dove va la cultura del territorio dove va la cultura in Piemonte sia sul territorio Piemonte sia sulla città secondo te va da qualche parte ci sono delle progettualità ma guarda può sembrare un po' paradossale quello che dico ma in realtà quello che siamo stati costretti a vivere da marzo in poi a parte la parentesi felice o insomma abbastanza felice dell'estate quando tutti noi abbiamo ricominciato a lavorare chi più chi meno i chiari cinematografi meno perché d'estate si va meno ma comunque abbiamo potuto ripartire e prendere un po' di slancio però tutto quello che siamo stati tutti non parlo solo di noi all'Egizio ma tutti quanti lo stabile ha fatto un lavoro eccezionale ma tutti proprio di industriarci a capire quale fosse un nuovo modello di cultura sia per quanto riguarda i musei ma anche vista la mia esperienza e la tua per quanto riguarda i teatri sapersi reinventare sapere fare sapere fare qualche cosa che faccia tenere vivo un filo rosso tra chi fruisce dei nostri musei dei nostri delle nostre biblioteche dei nostri teatri della nostra lirica dei nostri concerti un lavoro straordinario ha fatto anche il circolo dei lettori il salone del libro non voglio certo dimenticarli siamo stati un po' tutti costretti a reinventarci e questo in qualche modo è stato uno sforzo notevole per tutti però ci ha fatto capire dove si andrà a parare nel futuro perché tornare a un modello tradizionale lo dico per la mia esperienza ma credo un po' di tutti cioè il biglietto la persona che entra a teatro il museo fruisce della visita dello spettacolo esce finito lì no andrà implementata enormemente qui noi lo facciamo già la parte dedicata alla ricerca soprattutto per chi ha delle collezioni o degli archivi importanti cito di nuovo il caso dello stabile ma anche il regio assolutamente sperando che il lavoro eccellente che sta facendo la mia amica Rosanna Purchia arrivi a rilanciare un teatro che davvero lo merita e essendo stata io presidente per 14 anni dell'orchestra posso dire un'orchestra assolutamente straordinaria quindi dico sapersi reinventare e certo adesso stiamo tirando tutti la cinghia i soldi sono pochi le prospettive però ecco le prospettive in questo momento quando già si parla di vaccini quando già si parla gradualmente di una ripresa ci consentono abusando una frase che in questi giorni si sente dire fin troppo spesso di vedere quella luce là in fondo però noi ecco ti dico abbiamo avuto veramente un'esperienza straordinaria nel mettere a frutto sia la parte di digitalizzazione che avevamo già fatto in realtà in tempi non sospetti che all'Egizio molti l'hanno fatto sia la parte della ricerca che comunque ci ha consentito prima di tutto di avere il riconoscimento di ente di ricerca non soltanto quello ce l'avevamo già dal Ministero dei Beniculturali ma anche dal MIUR per cui tutta la nostra ricerca d'ora in poi potrà essere finanziata con dei progetti specifici PRIN per esempio ma anche di fare della formazione di terzo livello ecco quindi dico cosa è importante poter lavorare sia con la parte digitale che con la parte di ricerca ma con la base di formazione perché molte scuole che in questo momento sono ferme ci hanno chiesto di fare delle lezioni delle cose eccetera che noi facciamo online in questo senso visto che tu lo fai per la regione ringrazio in modo particolare l'assessore Poggio che c'è molto vicina sempre ma anche l'assessore Enrica che ha avuto la brillante idea di farci fare da coach e da trainer per una parte formativa proprio per le scuole medie quindi questo ci fa davvero piacere non l'avremmo pensato prima lo facciamo adesso i ragazzi non sono qui ma è come se ci fossero Ma hai anticipato sul crossing delle varie arti delle tecnologie della realtà aumentata e virtuale hai fatto un lavoro straordinario col direttore con tutto il board Ah lui è straordinario Però avete lavorato molto su questa su queste nuove tecnologie che adesso devono essere indispensabili sostanzialmente e questo ci ha dato un'accelerazione in questa pandemia ci ha costretto ad accelerare un processo sicuramente positivo anche in un crossing delle arti come teatro e museo e musica e video e social possono integrarsi poi c'è anche una cosa molto simpatica che sono queste clip in Piemontese perché parlando della cultura del territorio queste otto clip mi sono subito affascinata dato che col teatro sta fuori avanti questa cosa della lingua piemontese del territorio anche con gli amici del centro studio piemontese questa mi sembra un'iniziativa tra l'altro molto interessante Ma guarda Giulio ti devo dire questo quando noi abbiamo cominciato a pensare soprattutto diciamo al pubblico di prossimità che sarebbe stato un pubblico diverso da quello che noi siamo abituati ad avere qui che è un pubblico prevalentemente di turisti turisti stranieri turisti italiani ma insomma non di prossimità e delle scuole non avremmo avuto né l'uno né l'altro e quindi abbiamo detto cerchiamo di trovare un modo per avvicinare il pubblico di prossimità ma anche per riflettere sul perché tanti egittologi archeologi curatori collezionisti arrivavano proprio dal Piemonte quindi abbiamo cercato otto personaggi piemontesi tra il 7 e l'800 legati a ciascuna delle otto province del Piemonte e abbiamo costruito insieme agli amici che tu hai appena citato Albina Malerba e Giovanni Tesio quindi al Centro Studi Piemontesi queste pillole che di ogni martedì di settimana in settimana e ti devo raccontare una cosa molto carina siccome Albina ha poi questo network incredibile intorno al mondo di piemontesi nel mondo è chiaro che sono stati bravissimi sono stati molto contenti i locali perché infatti tutta la stampa locale regionale ha dato molto spazio alla cosa riceviamo un sacco di commenti sul web molto carini eccetera però c'è stato un risveglio di un network internazionale soprattutto argentino e Albina mi fa sentire ogni tanto i messaggi che riceve in piemontese da queste persone per cui da un giorno all'altro mi aspetto magari anche Papa Bergoglio Astigiano perché no perché no perché no perché no tra l'altro Asti è stata proprio la seconda puntata la seconda clip messa in onda adesso siamo arrivati a Novara e poi finiremo il 22 dicembre da buoni padroni di casa con Torino che è l'ultima grazie e l'ultima domanda che ti voglio fare le prospettive invece sperando che tutto questo possa in qualche modo essere superato nel 2021 pian pianino mi riferisco alla pandemia e internazionali del museo chiaramente per il turismo e i grandi progetti ovviamente nel prossimo futuro non soltanto del 2021 ma insomma a larga visione ma guarda intanto noi devo dire grazie infinite a tutti i miei colleghi in primis al direttore Cristian Greco che non ha bisogno di essere lodato da me perché tutti voi conoscete le sue qualità e la sua brillantezza però davvero si possono fare tante cose straordinarie soprattutto grazie a lui e lo staff meraviglioso tra l'altro tutti siamo io no perché non prendo niente ma insomma sono tutti in cassa integrazione ormai da marzo con lo stipendio ridotto al 70% il direttore e la direttrice amministrativa se lo sono ridotti anche loro del 20% quindi è proprio gente che ha passione e che vuole continuare a fare questo lavoro per passione e quindi abbiamo deciso di investire su noi stessi e quindi avremo deciso abbiamo deciso abbiamo già fatto le gare per le forniture di aprire tre nuove sale a giugno saranno le sale della vita quindi una collezione una parte della collezione permanente perché non sarà una mostra pro tempore ma un investimento come si suol dire in conto capitale e queste sale rimarranno poi a disposizione di tutti i visitatori del museo e poi naturalmente lavoriamo per le mostre all'estero ne abbiamo aperte due all'inizio di ottobre una in Finlandia una in Estonia un'altra la apriremo sabato prossimo in Texas un'altra è ferma in Brasile pronta a viaggiare appena la condizione della pandemia lo permetterà quindi tutta la parte dell'internazionalità come vedi è molto viva e poi naturalmente tutti quanti aspettiamo il 2024 sarà il grande anno del bicentenario tutta l'Italia non solo il Piemonte e Torino saranno coinvolti e ti direi tutto il mondo dell'egittologia mondiale quindi aspettiamo questo 2024 ma non ti racconto ancora adesso cosa intendiamo fare se riusciremo ad avere i fondi e gli aiuti per farlo c'è un grosso 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 progetto in pista ti ringrazio tantissimo e approfitto anche per farti in anticipo gli auguri di buon anno ti ringrazio molto caro Giulio buon Natale buon anno e speriamo di vederci presto a teatro e museo grazie Luca Beatrice grande uomo di cultura una cultura poliedrica perché appassionato e storico d'arte soprattutto curatore di grandi mostre e naturalmente per dieci anni se non vado errato presidente del circolo dei lettori Luca la tua visione al al bordi del 2021 sulle politiche culturali del Piemonte ma tra tutte le cose gentili che hai detto nei miei confronti ti sei dimenticato di quella che secondo me è la più importante di quella che mi dà una grande fiducia rispetto al futuro insegnante docente io da quando siamo in emergenza cioè da marzo praticamente ho sempre fatto lezioni in remoto prima all'accademia poi all'OIAD si è aggiunta anche all'OIULM ho voluto moltiplicare le ore di lezione perché ritengo che qualsiasi sfida del presente parlare di futuro in questo momento mi riesce difficile voglio proprio parlare del presente noi vogliamo cercare di mettere in campo passa attraverso la formazione per troppo tempo questo indirizzo è rimasto troppo staccato dalla cultura non sembrava che la cultura fosse una roba prefabbricata messa lì per utenti non precisati adesso si è posta un'emergenza vera reale io potrei anche vedi Giulio io potrei anche non fare mostre per due anni magari se ne accorgono i miei amici quelli che mi vogliono bene ma tutto sommato il mondo va avanti lo stesso se invece io non dovesse insegnare perché mi fosse come dire dichiarata l'impossibilità di farlo beh credo che questo sarebbe un danno vero e allora io in questo momento sto cercando di concentrare buona parte dei miei sforzi in direzione dell'istruzione questo concetto di tempo non tempo come ci ha trasformato e come può trasformare l'idea nuova di fare cultura ma io ho ben presente il rito che indubbiamente un po' mi manca così come mi manca tantissimo vedere i miei amici perché sai noi ci sentiamo certamente abbiamo questa possibilità straordinaria di poterci parlare attraverso uno schermo e così almeno abbiamo la testimonianza del fatto che siamo non solo vivi ma anche attivi detto ciò però è chiaro che questo non può che essere un surrogato allora se penso a tutto quel rito delle inaugurazioni penso al novembre dell'arte contemporanea che è svanito in un solo colpo e beh questo in sì ci ha costretti a vivere in un tempo non tempo tu hai questa meravigliosa giacca ed è un peccato perché tu non la possa così sfoggiare in un'inaugurazione in un evento ufficiale quindi ci manca anche tutto quell'aspetto di contatto con le persone che comunque poi trasformano la banalità tra virgolette di un evento in un'occasione di fare cultura ecco in questo secolo in questo momento dove la tecnologia ci porta in tutto il mondo sostanzialmente le potenzialità sono enormi ancora senso di parlare di cultura del territorio della cultura piemontese della nostra cultura delle nostre radici se prendiamo l'enogastronomia senz'altro e il turismo anche il paesaggio anche quelli sono voci diciamo che non sono a mio avviso destinate a mutare nel senso che è quando si spera presto adesso prima il grande fantasma del ministro speranza del presidente del consiglio conte era il calcio adesso lo sci gli sciatori sono diventati nuovi demoni ma quando insomma noi potremmo finalmente tornare ad avere una vita pseudonormale mi auguro prima possibile avremmo voglia di andarci a fare una mangiata in un buon ristorante di andare a rivedere quei paesaggi che fanno parte non solo della nostra memoria ma proprio del nostro vivere quotidiano viceversa se parliamo di mostre di spettacoli di cultura qualcosa è destinato a cambiare e non poco ti faccio un esempio Torino Film Festival io ho avuto il link per vedere buona parte dei film che probabilmente avrei visto in sala o forse anche no perché poi si trattava di ritagliarsi quel tempo dalle 17 alle 18 e 30 che magari invece dovevo andare a prendere il bambino all'asilo dovevo fare lezione cosa succede che questo apre un fronte apre un fronte nel senso che dobbiamo pensare ad una strategia mista ci sono alcune cose di cui sarà necessario tornare a reimpossessarci degli strumenti di sempre ma altri no ma altri effettivamente no anzi io credo che perfezionando ciò che la chiamiamo la tecnologia anche se forse il termine è troppo indi comprensivo ma la comunicazione la possibilità di dialogare anche a distanza ci sta dando adesso non può essere messa in un cantuccio e quindi cultura sul territorio si bisognerà continuare a farla e come ma probabilmente con altri strumenti tu sei un appassionato di moto anche una mostra è partita di Easy Rider no un mitico film che trasforma l'altra Hollywood da una sferzata ma questo viaggio verso la libertà culturale dove ci può portare nel 2021 eh questa domanda più che una domanda come dire ci vorrebbe bisognerebbe essere un po' vaticinatori molto onestamente ti voglio dire che non lo so nel senso che a me piacerebbe nel 2021 tornare a fare almeno un paio di mostre significative e mi piacerebbe soprattutto ecco quello che io vorrei io ho in questo momento una mostra su aperta anche molto bella molto importante ma la mostra è chiusa per cui se ci sarà la possibilità di mostrare alle persone a tutte le persone il frutto del tuo lavoro benvenga ma se così non fosse dobbiamo pensare ad altro e questo pensare ad altro indubbiamente non forse nessuno di noi ha davvero la ti sei bloccato non so se sono io ancora bisogno ti sei sbloccato adesso ti sei bloccato un attimo dicevo che adesso non mi ricordo dove tu sei sparito per un secondo infatti sei bloccato un attimo di altre cose noi certamente di tante cose noi avremo ancora bisogno di tantissime cose si dice per esempio che in Cina in questo momento soprattutto Wuhan da dove pare che il tutto sia partito facciano feste della Madonna che sia diventato quasi un luogo turistico è chiaro che ci sarà spero mi auguro presto un effetto liberazione molto forte ma dopo l'orgia ferragostana che qualche problemino indubbiamente l'ha portato però dopo questa cosa qui bisognerà cominciare probabilmente a riflettere su che cosa continuerà a fare che cosa modificare il teatro che è il mondo da cui tu vieni indubbiamente ha delle criticità se vogliamo riportarlo allo stato di prima penso che sarà difficile contemporaneamente la televisione in questo momento sta offrendo una quantità di idee incredibili e mi sembrerebbe stupido non provare a usarlo questo strumento parlando della tua carriera di insegnante di formatore c'è la tv educational una volta partita negli anni 60 non è mai troppo tardi ma poi tutta la serie degli sceneggiati per stare nel mondo anche del teatro e della letteratura trasportata nella televisione comunque il DSE cioè tutte quelle formule diciamo educational che la RAI ha in qualche modo stabilito negli anni 60 e 70 oggi ci può essere un aspetto formativo utilizzando il web assolutamente sì intanto perché il web è uno strumento quindi come tale è uno strumento che ha delle regole e dei modi d'uso ma non ha un'estetica l'estetica gliela dobbiamo dare noi nel senso che noi saremmo in teoria gli esperti noi dico tu io ma anche tante altre persone che evidentemente possiamo dare il cosetto software essendo uno strumento che ti dà davvero delle possibilità molto ampie e non a caso quando tu parlavi prima di televisione mi veniva in mente che fino a un po' di anni fa i genitori dicevano ai figli smettila di stare davanti alla televisione ti rincoglionisci davanti alla televisione fino a sei mesi fa dicevano piantala con questo telefonino piantala con questo computer sei sempre adesso viva Dio meno male che c'è no? meno male che c'è sul territorio le politiche culturali le nuove culture credi nelle contaminazioni tra le arti intendendo cinema televisione l'arte diciamo le arti che tu conosci bene quindi quelle pittoriche e altre formule che possono essere gli spettacoli live e quindi il teatro possono convivere si possono spostare ci sono delle possibilità che so che il teatro arrivi nei musei che il museo arriva nel teatro che il teatro sia anche un aspetto museale e che lo spettacolo dal vivo possa arrivare con delle formule naturalmente studiate rapide immediate anche in spazi che sono quelli museali le grandi diciamo fabbriche come può essere che so parlando di Piemonte Venaria piuttosto che altri momenti diciamo museali importanti queste contaminazioni questo crossing può avvenire ci credi? abbastanza nel senso che indubbiamente ci sono dei luoghi che sembrano un pochino dei santuari vuoti senza fare nomi le OGR ancora adesso non si è capito bene che cosa diavolo ci si vogliono fare in quel posto lo stesso castello di Rivoli vabbè quello è lontano sappiamo ma in questo momento io credo che i musei o gli spazi troppo connotati per un determinato pubblico siano destinati davvero a prendersi una batosta epocale perché poi sai Giulia a un certo punto le persone saranno messe nella condizione di dover scegliere perché ci saranno certamente meno quattrini e poi perché indubbiamente un po' di assuefazione al tenere le distanze ovviamente ci sarà ci sarà vaccino non vaccino mascherina non mascherina ma non voglio parlare di quello contaminazioni ibridali e linguaggi ma soprattutto sai io penso a questo inventare nuovi pubblici perché io e te che pure siamo degli sprendi di cinquantenni siamo residuali come diceva Henry Fonda in C'era una volta al West nella parte di Frank il futuro non riguarda noi e allora è cattivo senza voler esagerare però senza estremizzare è chiaro che se noi non si pensa per questo che ti dico formazione, cultura ho provato a parlare ai politici non ci sentono la scuola non dà posizionamento la scuola non è vetrina quindi loro preferiscono infognarsi sulla mostra più inutile o sull'impresa così sul territorio non ha nessun significato invece di investire sulla scuola che è ineludibile ineludibile anche perché la scuola e così come il web così come ai tempi la televisione forma un pubblico di consumatori e consumatori vuol dire denaro parliamoci chiaro se non incominciano a svegliarsi ma non ho grandi aspettative almeno sul territorio credo che la sfida sarà dura però noi siamo persone trasversali che non abbiamo paura di niente ne abbiamo viste di tutti i colori di tutti i colori tra i colori parlando dei colori diciamo che prossimi e futuri che arriveranno le politiche della città probabilmente cambieranno o si trasformeranno ci sono stati in questi anni perché forse bisogna fare una divisione tra le politiche diciamo regionali e la città di Torino che ha un suo nucleo fondante ci sono i grandi teatri le grandi fondazioni gli antilirici e via discorrendo secondo te in questi anni ci sono state delle politiche che possiamo dire culturali o pensi che tutto questo si sia spento Torino è una città abbastanza in ginocchio credo da questo punto di vista volevo sapere la tua opinione ma sai noi abbiamo sempre questa data così scritta qui in fronte il 2006 che per molti è l'anno delle Olimpiadi per me invece è l'anno in cui ingiustamente la Juventus non è fatta retrocedere in Serie B quindi tutto sommato alla fine non sono neanche così affezionato a questo 2006 però è indubbiamente chiaro che quello fu l'epifenomeno di una coda lunga strepitosa che poi è durata anche nel tempo dove secondo me al di là della costruzione del grande evento e della trasformazione di luoghi mi riferisco per esempio al Museo Egizio che ormai è una realtà internazionale non c'è neanche ma sai quando tu hai due persone così brave come Evelina Cristillenne e Cristian Greco forse è anche più semplice detto ciò detto ciò c'è stato un errore un gravissimo errore Torino come vetrina per carità in una città che fino ad allora non aveva neanche i ristoranti aperti la sera cioè come adesso e quindi una città anche più accogliente non dico simpatica perché i torinesi simpatici quasi non ne conosco però diciamo una città diversa cosa succede che è stato un effetto vetrina ma la produzione di cultura non si è vista io non vedo produzione di cultura significativa negli ultimi vent'anni cioè tutte le cose sono precedenti a quei famosi anni 90 in cui indubbiamente si rimise in moto un certo meccanismo anche per la crisi della Fiat ma pensa alla musica subsonica pensa alla letteratura da Holden da Baricco in avanti il circo dei lettori stesso pensa all'arte qui a Torino ci sono più musei che artisti si va bene ok ho 5, 6, 7, 8, 10 quanti musei e gli artisti? allora la prima cosa che mi viene in mente se qualcuno vorrà come dire fare delle vere e proprie operazioni sul territorio la produzione la formazione e la produzione non c'è bisogno che mi dai 1000 euro 10.000 euro per fare una mostra te li puoi anche tenere producili investili su qualche cosa che abbia un altro tipo di ricadute e anche un po' un effetto moltiplicatore insomma una domanda guardando avanti qual è il segno che faresti nel prossimo anno culturale se potessi lasciare un segno o suggerire un segno non lo so un grande evento no mi viene in mente mi viene in mente appunto ancora torno ancora sulla scuola tu penserai che magari sono un po' un po' noioso ma ma tutti questi fiori di intellettuali che a Torino si autoincenza perché non mette a disposizione adesso la propria professionalità e la propria generosità umana per colmare le lacune didattiche venute a creare per colpa di nessuno non è ne colpa dell'azzolina non è ne colpa di nessuno è la situazione che si è venuta a creare diciamo mettere a disposizione la propria professionalità e la propria generosità per colmare un certo tipo di lacune e dare attraverso il web per esempio agli studenti una tu che sei un grande uomo di teatro vieni a parlare ai miei studenti di come ti fa uno spettacolo come si fa ecco tornare al tornare al come si fa invece che riempirci di contenuti 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 che non riescono neanche a essere assorbiti come si fa quali saranno le nuove professioni un grande evento sì mi immagino mi piacerebbe che la Juventus vincesse la Champions League sarebbe decisamente un grande evento grazie grazie Luca grazie della chiacchierata grazie a Julio sempre un piacere il 2021 sarà certamente un anno di ripresa dico certamente però certamente forse è troppo sarà speriamo un anno di ripresa ma di ripresa soprattutto di quella vita culturale che è anche una vita sociale perché la cultura è anche e forse soprattutto un incontro diciamo che la fondazione circolo dei lettori non si è fatta trovare impreparata e quindi noi abbiamo stiamo facendo uno sforzo quotidiano di creatività perché ogni giorno bisogna ogni giorno ha bisogno di idee altrimenti questa emergenza questa realtà aumentata o diminuita che stiamo vivendo perde senso e quindi stiamo lavorando e continuiamo e continueremo a lavorare con uno slancio davvero quotidiano La cultura del territorio ha ancora senso oggi di parlare di cultura piemontese degli autori piemontesi di letteratura del piemonte secondo me sì e lo dico da direttrice di un circolo dei lettori che ha al suo cuore un luogo anzi più luoghi perché noi siamo a Torino siamo a Novara siamo a Rivoli e speriamo presto di essere anche in altri luoghi del piemonte perché uno dei miei obiettivi o forse dei miei sogni è quello di aprire altre sedi del circolo e penso e lo dico l'ho già detto e non mi stancherò di dirlo penso soprattutto alla provincia grande che mi pare un luogo di grande vivacità non solo economica culturale e sociale ma il territorio è fondamentale diciamo che questa questa condizione in cui ci ha messo il 2020 ha in qualche modo abbattuto i confini perché noi con la programmazione online abbiamo per un verso raggiunto un pubblico italiano diffuso ma non solo italiano devo dire per l'altro lanciando delle attività online possiamo permetterci di invitare personaggi intellettuali scrittori artisti che non oseremmo nemmeno provare a invitare a venire in sede quindi in qualche modo questa pandemia e questo confinamento ha abbattuto i confini della cultura ma è altrettanto vero che io credo molto nel territorio nei luoghi e quindi appena si potrà riprenderemo una vita veramente materiale nel senso vero della parola insomma la nostra sede moltissimi la conoscono ma è un luogo profondamente connotativo al cuore della città al cuore del Piemonte in questo tempo che il tempo non è tempo o un tempo diverso in questi mesi che abbiamo subito una sorta di sospensione di tempo innaturale in qualche modo tecnologie libro la parola scritta la parola letta la parola detta e la tecnologia come si possono fondere quali sono le sfide sempre in un prossimo futuro la cultura non può fare a meno di tutto questo proviamo a immaginare a me capita ogni tanto di immaginare come sarebbe stato questo lockdown in tempi pre internet pre rete sarebbe stato un vero inferno un vero inferno buio per tutti anche per la cultura che comunque non si è fermata e noi come circolo dei lettori abbiamo e stiamo costruendo contenuti originali la voce i volti degli scrittori ma anche i podcast anche i festival tutto si è emigrato sulle piattaforme ma emigrato devo dire come un arricchimento non come una diminuzione per cui la cultura è tutto è anche voce e certamente la lettura è un esercizio in solitudine ma può anche diventare e diventa un esercizio di socialità perché ci si scambiano idee e quindi l'essere su una piattaforma sulle piattaforme ha rappresentato un ampliamento io credo di cui dovremmo tener conto anche quando saremo finalmente speriamo tutti tornati a quella normalità che ormai ricordiamo soltanto ultima ultima cosa un progetto strategico del circolo sul 2021 e ne abbiamo tanti ne abbiamo tanti ma direi che il progetto strategico principale è quello di non 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 essere mai semplicemente un luogo o una sede dove si fanno presentazioni di libri to cure delle novità editoriali stiamo lavorando sempre a dei fili conduttori molto connotativi ma anche aperti e quindi sarà sempre una programmazione integrata e poi ci sono tanti sogni che sono quelli ad esempio di creare delle residenze per la traduzione di organizzare degli incontri sul tema della traduzione della promozione dei libri italiani all'estero abbiamo fili conduttori importanti che saranno dal tema femminile a quello della memoria insomma la mia idea è quella di avere una cultura integrata cioè qualcosa che faccia sempre riflettere anche per il modo in cui viene presentato in cui vengono presentati i nostri progetti e le parole che scorrono sia nelle sale del circolo sia sulle nostre piattaforme digitali ringrazio molto direttrice grazie grazie a lei grazie a lei Grazie a tutti.